Sì, è spento proprio oggi, 17 febbraio 2021, a Parma, in regione Emilia-Romagna, Raffaele Cutolo. Chi era costui? Era un personaggio, ovviamente italiano, appartenente al mondo della criminalità, secondo la mia opinione. Infatti, pensate che fu capo della nuova Camorra organizzata. Era un personaggio abbastanza conosciuto proprio nel nostro paese, io però non sapevo chi fosse fino ad oggi quando mi è arrivata questa notizia che mi è stata divulgata e di cui sto facendo il video in questione. Pensate che era nato a Ottaviano il 4 novembre del 41 e era nato proprio nel 41, credo. Veniva soprannominato come o professore, da chi lo aveva conosciuto. Perché veniva chiamato professore? In quanto non era analfabela, va bene? Questo è qua è tutto. Dunque, vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Questo video non intende reddere la privacy di Raffaele Cutolo, ma solo informare eventuali persone di ciò che sarebbe accaduto di recente. E si sarebbe spento in carcere, va bene? Grazie a tutti, da Leandro, narratore italiano di Roma. Ciao a tutti, Raffaele Cutolo, riposi in pace.